quando jobby mi manda gli allegati è sempre paura mi manda sempre cose strane allora appena si crea il link avvio è già creato aspetta che lo giro in attesa allora ragazzi ho comprato questa ventola adesso la proviamo secondo me è una cacata provala sul rocket è infatti è acceso ok intanto avvio la prima allora dobbiamo fare un test dobbiamo fare un test le cose rabbiose le dobbiamo dire in dialetto a me hai visto il video ognuno nel proprio dialetto è ovvio ho messo splatoon ma chi è poliglotta può bestemmiare in 4 o 5 dialetti si 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 pure io perchè almeno in abruzzese in napoletano ma te poi non hai notato nulla devo notare che c'è la macchina di fartene fuori esatto e dobbiamo fare un test come va quella macchina lì? le cose rabbiose ma l'abbiamo mai usata bene dai no è una cretina è una cretina no mi ha mandato un video è una cretina che è un'altra cretina è una cretina va no non mi ha fatto entrare ma non può non si arriva giobbi tu come stai messo una vabbè metto davide leader così io vai si ti ho messo leader del gruppo faccio caos si è a forza siamo da quattro sì infatti pure io visto che siamo tanto testando tanto meno che utilizzo macchine che non utilizzo tanto ma secondo me per prima tu avviartene una sì sì perché qua siamo ancora di certo è fatto di entro vedo che si perché di 2 si mince la porta minoi minoi quando finisce la canzone gioco quindi devo devo dire le cose in dialetto quando si arrabbiate alla mia è azzata voglio anche se è quello che dobbiamo aspettare tutti gli altri c'è pure mirko che deve venire a rappresentare roma ma quando vediamo prossimamente su questi teleschermi i noi minoi mannaia sto disagiato scusa come ne l'ho tolto dal via non so se hai visto hai visto come ho messo di freno a mano totale quando ero girato a gomma in aria stavo girando tattaruga sul campo giobbi giobbi segna tu io segnalo ragazzi lo sapete quando vedo la palla davanti al gol non capisco più tappa ma chi è che ha fatto il tuo gol scusami stiamo a metterla dentro io perchè? la stavo per togliere non ho capito questa cosa l'ho fatto apposta perchè? perchè tanto viene facciamo 15 voglio vedere voglio vedere ce la fanno qui si il giobbi ha uno spirito sempre più positivo giobbi ha voglia dammi da dormire eh 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 ho detto che l'ultima è staccavo porco 2 ma ma tanto andata ma tanto andata il foto delle tigre ma che cazzo fai? ma cos'è stupido ma ne ho lasciato davanti ai coglioni si fanno esplodere lì bravo bravo che questo si è fatto autogol come si fa a dire che sei uno stronzo? stronzo c'ho pure ricchione è napoletana è napoletana ricchione è merd si si vuoi fare pesci e pesci? beh no pesci e pesci e pesci lo faccio mo mo te lo ha già metto e portali in da sta porta c'è una ragazzone facci mi stai facci ma gli ho camocchiata comunque ma stai scherzando spero ma questo sta scherzando il secondo autogol ma non è forse non ha capito la porta come a Pongo Gogo che non capiscono dovevano tirare le palle nastardi pitta morto eh quello si è disconnesso ma onnaccio onnayas amprocopiabana ancora me l'han preso io amo Giobbi io amo 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 no vabbè ma questo non si non posso farlo disconnere non lo posso buttare io fuori dalla stanza no eh ma quale bel tiro grazie che sto giocando con una banda di decerebrati so 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 e il franzoso del buono ho incolato qualsiasi settore possibile immaginabile nel campo ehm 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 ma mi ha nato una un'antozza che mi ha nato io ehm sono stato un po' lui no mi sa tu hai picchiato Giubbi e Giubbi ha picchiato io mi ha picchiato all'autostazione mi avete avviato oh ma ti ho detto lo scaffo in giù il becco su cretino vacca se ha finito ho visto il boom se ha finisce ma io ho già siccato ho dato un bologno in giù il mousse e li passare un chioretto vai nooo gran cane di impeccane gran cane di shade me nooo wow gloria ma i a i 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 il gol mongol gol no ma la job ci pensa che pensare o letta la dieta se questa joby se questo è volare è il volo di polli tu credi che riesco a tirare sta macchina ma non devi girarla inizia vola dritto a girare non puoi girare ragazze che c'è un trip in aria la macchina se vuoi girarla nel senso fare delle curve devi decollare piano non puoi decolare il ultimo metro a cento all'ora volare che sarebbe tipo qua per no quando farlo doppia guarda però entra però entra 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 se facevo la doppia ci arrivavamo poi su un partito storto e quindi abbiamo 30 secondi che recupera sa cosa difesa uno morto c'è sceglie lo sto via ma guarda per te provo alzarla joby gliela fai saltare la testa bra nooo no ma io non e gli unidero il testo che stesse spazio questo invece è un bel letto degli autobot ecco il vero lo so pericolo amanti sui filmini se ci sei massimo aspetta un attimo a banda di ricchione tirate la che ti capita sotto e poi ti invita david voglio sentire l'audio rimessi per esempio è questa 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 19 20 21 20 Mi lagga Vediamo quando evitarlo Che è successo? Amassi, è sparito In Spagna, partiamo l'hashtag Ma è arrivato Massi Massi lag No, Massi lagga Ma che cazzo dici Massi è mega zero Ma scusami Mi stavo facendo una magagna col talento Ma scusa Metti Discord col 3G E statene sul gioco in 25 Già sto così Ma non è quello il problema Il problema è un altro Secondo me quando abbiamo settato I controller un'altra volta Ho messo male quelle delle chat vocali Perché continua ad aprirmi ogni volta La chat vocale Quindi ho il video joystick Che sta impazzendo Te le ridico Aspè, mo li rimposto un attimo In default Vediamo che succede Mi hai fatto partire Sì, sì Ma c'è Massi, sì? Sì Sì Vabbè, aspetta che mi rimposta Ok Vado Vediamo se lagga ancora Jägermeister Jägermeister Sì Massi Digimon Massimon Ma c'è Mo? Optimus Massi Che è una buona ragazzi È stata da voi O Massi Prime Secondo Ah mi sentite o no? Yes Ok Massi Prime Ma Joby dove è in tutto ciò? Ah ma Joby sei squadra Beh, ma ti danno l'altro Ma che cazzo Mi è andato anche un premio Mi è andato anche a me Mi è andato l'adesivo a me Ma che banda di scolati Ma mi è andato un gran bel cazzo di niente Mi è andato un forziere Una cazzo? Una cazzo Una cazzo di gioco 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 Sì Anche il gioco Sì C'è qua Ci vedeva Chiara Arr Ah Ha pigliato il pardo Ma si è scritto Ha scritto show guarda Davide gli ha dato l'adessivo quello fiammante ragazzi non torniamo al menù principale facciamo prima ancora 5 secondi guacchio 3 perché Massi è off-line io vi vedo bello io vi vedo sì ma sei andato al menù no io sono in partita eh Massi no Massimo Spray non c'è? no non ci sono abbandonate vabbè allora tutti a tempo tutti a terra abbandonate è una bomba spagna ma bello come stai cosa? io presto uscendo ho spinto start per uscire e poi di solito spingo subito immediatamente aspetta se no non riesco a sentire Massi che mi dice qui divertartela ma ti stavo dicendo si devo attivare poi lo scambio ma a fine serata attivarò tutto allora lo sai che mi annoio già sai che te la do sì va bene in che senso ho fatto tutto lo sai evviva le live ah cazzo vero madonna che cazzo ti l'ho detto a tutti io qua due minuti mi dispiace il vostro canale è stato chiuso eccessivo il linguaggio rosso e chi no quello che uscirà secondo me su youtube ah ok sborgaggioni qua non si passa niente ah iniziamo ah ma è miso al capo tanto dai 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 non cagare dai no ma addio che parlo parata no scusa non ti ho visto tol abbiamo fatto il gol all'insincro sai sì guarda mo che arrivo che arrivo io mo l'ho fatto pure vai jobby sparala e mi hanno notato a parte è stato bellissimo massi e dire che col 3g vabbè 3g non è che l'anga 3g è appunto ole ho segnato vai a cagare jobby distrutto uno furguccino della minchia è appunto il disco comunque senza massi le live non si possono fare le live non si possono fare ma non si può fare ci posso non fare ragione eh ma infatti non ti doveva venire a te la no 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 dai colpa mia la ma se si po 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 a il mondo e stelle raro avevo un po' più tranquillo no la iperfibra stanno completando la linea sul ma scusa mi è arrivata a me eh guarda c'ero vicino cioè mi è arrivata a me mi deve insegnare bene a saltare il tamponno il riscatto è venito pure il nos qua un cazzo di nano no 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 non sono io sto sul muro eh oh 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 ero piazzato proprio avanti capite volevo fare proprio il golo da ricchione golo da femminuccia da si sarete mio addosso si 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 bello mamma c'è stato un boom oh e che cacca dal assist non so come ringrazio te depa ho fatto l'assist io no sicuro che sei già nooo nooo queste ricchiene di merda la toga cos'era sto verso di consulto ma ma poco nooo nooo parco schifo vabbè fuck fuck agar mi guardo un po' della live in attesa uno ha fatto un boom l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista perchè siete fermi? l'idea sta facendo ancora shop però mi so no 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 sto facendo un po' zeno so intanto c'è ancora un boom il noto 37 bagasse il nooo LOOOOO massi ho fatto tir in porta che ti ho tolto c'ero io lì ah non l'ho vista madonna mia meno meno che non la toccare no, no, torvo, diopardo sto volando madonna cavalla cavalla madonna madonna cavalla perca troia ma vaffan... un culo madonna c'è un disagio comunque pauroso, sì ma avete invita formate almeno ed è perso? sì ma io ho detto di una domanda trovare un sesto eh, dove invita qualcuno aspetta che prova a invitare un foro un sacco di fronte ma coglioni che ci invitano 25 volte al minuto ok, è invitato ma sì, te l'invito andiamo in fai dei premi che è il leader che fa la prima invitovi però senza palle piccole 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 passole normali un'invito spagno le vai una piccola è fatta ok facciamo il mino in palazzo no, siamo dispari quanti siamo? no, che ha invitato Saporoli il tuo secondo in giorgato l'avere si a farlo venire in voi no assoluto now start de ok l'Europa solo party no start de private dite che siamo in live e che mi dice scriviglielo tu se no che te con l'inglese sei il più veloce io sono col joystick lettera per lettera tu non so se sei portatile no, no, sono in joystick anch'io great ha scritto un'opera tipo great tyson greeting passion che? greeting sono nei blu paesano saluti paesani ma io sono fermo dove sono nei blu lui arriva nei blu e quindi lo sentiamo no, io sono al fuori pure io eh? io non ho così detto sono fuori loro sono fuori siamo due contro due sono fuori veloce sono fuori che c'è fuori? massi e jobby ma se non entrano devono spingere partecipare potete partecipare alla prima no non va allora usciamo che lo rifacciamo abbandona se no ne ricrea un'altra distanza no siamo ancora tutti no siamo ancora tutti sì ok io sono uscito sono tutti pronti? sì aspetta che invito intanto il server discord drogato qua coppia tu ce l'hai aggiunto a sto tossico? come amico no ho i messaggi che ci siamo andati sulla chat di ieri infatti bisogna mandargli le domande a piccina è un tossico poi faccia a cagare a giocare quindi non è la mia priorità segnarmelo fra gli amici ma come cazzo lo invito devo fare auto? mhm sì io dove sono? sei con me ma che è questa salotta strana? vabbè ok digli di vedere nella sua lista hai messo coso? rocket club? no quando fai le private ti metto anche questo tirate bravo allora farà meglio per spagno è questa la mappa da cui si può uscire ah sì 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 me l'avevi detto aiuto wrong e io a cosa gli ho scritto a drogaggio che squadra è? eh ma si sta rivedendo chi? chi? joby? si chiama eoforo 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 niente un'altra cosa che che Massi ti sta inviando qualcosa si non è collegato con questa cosa addio come cazzo funziona sta mappa vai buona Massi bravo Massi ogni tanto ho fatto una parata qua eoforo ha tirato talmente fiacco sono entrato fino a dentro la porta per essere sicuro vai Davide vai ma dove cazzo sta la porta stava scrivendo stava scrivendo le paniche ma quella sarà la tastiera usb dovrebbe funzionare sti no sull'attacco di tipo c no se la metti sulla doc mettila sulla doc penso non abbia i driver oddio oddio non so dei ragazzi ero distratto eh ma ha laggato intanto delle laggate micidiali calcolate che eoforo è americano californiano chi? eoforo ma che è californiano? ora è vero è un tocio calendario la lato 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 ma questo ha capito che è un altro server gli ho inviato un messaggio privato a sto ricottaro ok orcodio orcodio ma perché yoga ha salutato Mirko? perché si saranno forse incrociati in private in pro scusami Davide scusa ah vabbè comunque lui ha 760 di ping nooo quello non è il ping quella è la velocità spazio temporale quale lui agisce tra i mobili sì sì orco due ormai mi veniva no è fermo ma ha capito ma l'amorato moro non purà la madonna buono al centro al centro no ho ciccato no no jobber e vani maledetti è un foro tra noi foro 4 6 non lo sentite venire allora allora gioco 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 che sei dal computer attenti dove sonare allora arriva percorso un uomo ciao ragazzo è morto stiamo giocando in youtube live oh sì Davide, link qua su Discord la live adesso Davide, link il video e adesso dvd link fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you this group is only Italian player only Italian migli only Italian players italian speak English very very well bannati dei tornei job is the president nooo 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 how are you it's uh it's ugly outside it's all cloudy but uh yeah yeah a parte che mi pare un video forno comunque no no big problem scusa jovi ma che cazzo fai qua davanti a lei the president jovi baff jovi 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 combina guai dio caro a te che ha segnato per noi io cioè per loro i cosi infabili ho messo il link nella chat generale grande Davide chat on the table the link is the li ass of jobby in asshole jovi ass del culo l'occasione l'acqua il serci giocatore ha fatto esplodere se ciò che hanno un po' 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 un'idea e che invece io devo dire che io mi chiedo non mi colpire più il palazzo test fondata da b siiii sta pensando un attimo al sforan kid su uoporn guarda giob ma guarda che è stato? sta cercando giobbi su uoporn search giobbi on uoporn and click like on the video share and like joffi taste a horse dick che schifo non ce la faccio più raga ho lasciato il joystick che non ce la faccio più ai 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 horseing jobbing jobby plane win grandpa grandmothers Giobbi hand è il cavallo, giobbi hand è il nonna, giobbi hand lavoro o studi? lavoro e poi ho planito di studi però parla bene electrician il giobbi è l'informatica università è hacker lo hacker lo hacker il presidente sto volando ci do una pacca no? e l'avevo provata a figlia ma da quanto tempo stiamo a giocare? De Panic mi ha messo 10 minuti o 20 di partita 10 minuti no, com'è non? no, non so oppure tu Nooo ed i druggi e i druggi e i druggi e i druggi finissimi drags the dragon i want the dragon dragon boy ma porco cristo in english yeah marco questa era la giornata marco is a friend and speak only in english but he is italian oh ok it's crazy because we are all normal and for it's funny it's funny play with this link maffa wow ah yeah god jobby mannaiette guardate panic oh ed entra ma che cazzo no bello che li vedo what the fuck ah 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 ma ha dato l'assist ah 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 yeah ah ah massi we like a first touch ah first molto il primo tocco è suo the first touch is the bloody massi i'm a lady lady i'm a lady the lady like a first touch eh first touch è important it's important assist di nuovo touch my dick spagnolo diglielo caccia ah oh iiii mi si è impinta tutto jobby un attimo soffi perchè sei in silenzio che dove ti chiesti jobby secondo me è talmente laureato che non sa parlare inglese jobby spicca 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 con le speedy pizza ma io blu no nooo 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 jobby don't speak jobby speak a linguaggio gogo e ne fa pure una facca in the dream speak on the rocket david ogni tanto butta l'occhio se qualcuno scrive fa si si ma la sto già controlando a foro do you want to share the link no problem eh oh yeah ok for ok for ma in tutto so lui come your friend eh che ne sace eh no vediamo una foto perchè continua a urparmi non è che ah si ma che ne sto bella brava no 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 nel primo tocco eh a che ne so jobby ormai so abituato a che mi fa nooo vabbè faccia che mi prenderò io che vuoi con sto nick e nemmo parla no no ma comunque no ma comunque è un foro il principe capito carlo capone ciao ah alessandro tu è inglese ale thank you thank you your english sax eh ma english is bad english english homemade fatto in casa come la pasta eh minchia spagnolo ma siamo contro motivos un.pa scusami nooo per il tuo corpo porco no l'ho caricato un attimo no no guarda mi trovavo ciao carlo carlo capone ha scritto ha scritto ciao ma non ci credo è stato diciamo il palo non era difficile da togliere ragazzi ragazzi venitemi addosso tutti bravi così bravi così no 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 poi lì dobbiamo fare a euforo la presentazione tu sei un nuovo tu sei un nuovo un nuovo membro di questa vita e jobby noi facciamo un sì ma continuiamo a urtarci secondo me c'è te ma porco il giallo un nuovo finito il nostro ma vai eeeh jobby jobby diventa uccidere mi ha lasciato da solo vieni qua nooo avete sbagliato po avete sbagliato po nooo io volevo salvarla ma non siete tre drogati io un buco mia per fargli capire che c'era del tenero comunque solo ho fatto segnare a a vent'anni a e già va bene quindi niente ma niente 20 years right e foro si sento proprio un bel bong ah ah i listen well eeeh abbiamo visto giusto depa eeeh nice job good 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 jobby in 10 minuti ha fatto 105 punti I am in company ma fai soletto salutiamo anche alessandro falbo ciao alessandro falbo ciao alessandro falbo ale quel ragazzo che era c'è pure sui nostri server ok eeeh dobbiamo fare pronto giusto? beh si si pronto 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 no 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 ti ho fatto il menu principale ok back to main no ma partito back menu ma jobby se parla tu speak jobby speak 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 non avrei paura evoro you are welcome in abbandona partito no 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 back to menu back to menu e4 ok eh you are welcome in eeeh this channel oh ok it is screw yeah but now i listen the bomb ma perchè sto da solo silent please silent silent come on one che sto da solo ma si esci esci sto segnando da solo esci ecco eccolo 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 is octane is octane sound ha fatto partire let's go let's go si i drank a little water it tastes like shit cantilla si sente you watch the live oh yeah i'm on it right now auto i'm blue da 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 mancano euforis eeeh orange ecco il mentecatto di massi io che colore sono? blu è quello che mi sta meglio io ho due jobbi mi dispiace per te perchè ci vuole ci vuole ti con la primo coltivo pop lo il ricorda mostro no art no 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 tra l'altro hai il macabre petto perchè non lo vedi il mio piccolo come cresce c'è la pure rosa il tuo piccolo è fuori ragazzi e mi dispiace credo che ho fumato troppo freddo sì Massi oh 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 è troppo freddo oh è troppo freddo Giobbi ma dove Cristo sei? Giobbi Massi è troppo tira tira ma che devo tirare che sto sul muro? ma Giobbi ma perché non hai tirato? great wow ah no ci sei andato ah no ci ah no ci ah no burt no il quiff scusami sorry l'ho carriato però pesantemente eh beh buttate quella cazza di palla buttate quella cazza di palla dall'altro lato mh sorry crassi putt madre mother fuck tira eh ma la parata no davide ma ho chiuso pure quella lotta mi piace a te mi piace a te david lo sai che mi piace la cosa fatta dura oh nooo siamo proprio a gi la banda voglio gira banda gira banda buona ma buona ma buona allora ragazzi se ci sta uno dal lato del muro gli altri andassero più verso il centro che non seguirla al lato tanto seguirla al lato a chi la crosserei cioè se io cross lo vedete mo eoforo ha crossato è inutile andare tutti dietro eoforo guarda un triplo tazzo eh uno due tre cioè quello è il discorso io ho buttato dentro due palloni non c'era nessuno allora fate una cosa crossata la voi che mi ci butto io al centro difesa ah si ho avuto io a provo eh ho visto davide dai ti va ehm ah holy shit manco piccola mirandola guarda fa sti cazzo di manovra eh che devo fare almeno li ho saltati un paio ma quanti cazzo ne sono loro tre dai ah buttata salut salut no per caso ah no dammit ah 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 p non si fa vola no io ho voglia di morire buono buono grande giobbe buono così se non se ne arrivano mai palle dalla guarda che giobbe insieme che brutto liscio ti detto volevo mettermi a muro e uscire di testo per prenderla fuori ma ho sbagliato un attimo timing io non l'ho presa apposta ehm avevo parlo di prendere qualcuno però non si sono andato convintissimo bravi ah è shill crash crash ma tua che laggata che m'ha tirato va bene? va benissimo guarda viste che laggata che m'ha tirato mi ha saluto mi ha spostato un assuntato un assuntato eh 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 hey che è sto da ruore nooo 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 bravo grazie oh man a me è sembrato di vedere un minipony in difesa oh ma stara da già bec fuori nooo ma stara da già bec fuori nooo ma stara da già bec fuori il primo buon lavoro fate pronto pronto check check il tuo ping è molto alto 160 maybe the weed sono negli arancio il tuo posto di verità io sono di nuovo nei blu ok lui no no io foro io foro non c'è più però siamo in 3 contro 2 con la sat con la sat sveglia domani si si risveglia domani bravo massi ma sembra da scoppiarmi eccolo è arrivato bambino eccolo ah dillo giobbi tu sei traduttore tu hai creato il google translate giobbi nooo anyway io ho detto il tuo ping è molto alto 4 oh s**t 160 160 eh lì 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 allora allora so never mind play fai tefono fai ma massi il diavolo oiii cosa volevi fa? ah s**t che poi a me sembra comunque sempre un video porno quando fanno s**t 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 lo sai eh 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 madonna mi sta laggando dovrà avere una maniera c'è altro che s**t proprio mother fucker proprio c**t mada fada mamma mia vai vai hai volato il gol e gli ha fatto un bel boro l'ha fatto guarda s**t 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 e poi comunque con questa tonalità dirò è stata molto s**t si s**t poi giocatela relax s**t giocatela relax ah senza s**t no ok madonna mi sta raggando in una maniera forza tu devofre un po' la porta un po' la porta si perché le porte a screen segnala ma tu non hai di frizz e te ne va bene no mo so quello della Vodafone non puoi mettere frizz di nuovo no non mi sta a cascata e ha frizz un po' di fatelo un rootel un amico frizz box cosa hai amico frizz no push ops molto bella la coreografia di Massi che passava sotto la palla roteando per distrarre gli avversari buona no fa cagare qualcuno si è cagliato da se in casa mia dai cane si no no sto dormendo che parola ma i che abbiamo in portano jobby jobby che ha camminato col freno a mano e acceleratore attenzione ma si sono andato Davide vabbè se fosse già mettato come come jobby è una caratteristica campana ma vaffanculo amore che noi ce l'abbiamo troppo montato cagliato dicchialo jobby caccia la foto della mazza fai una vedere Massi dice jobby take your dick your big dick on the photo and send it on the table ok no 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 e devil macht allora e ciao 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 c�� io come io non c'è5 e sangi io. La gamba di un tavolo. Hai capito? Mozzata però. E basta. Ma lui è inglese o americano? Olandese. From Holland. No, l'inglese è già da Bielorossia. Ma la tenono solo freed o danni una pizzerino di chi. C'hanno la roba, non lo senti, che a vent'anni. Ma io a vent'anni lo ficcavo in tutte le pagode. Borg, facciamo distensione. Tiro fuori il roar, poi vediamo. Che tiri fuori tu. Il roar. Il rotary. Bitch. Ho finito il nostro, ma l'avevo pure allontanato, mi stavo dirigendo alla porta. Ah, io. Eh, sorry. Happy shalala. It's nice to be happy. Mi tamo amore. Eh. Stavo segnando, no, 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 no. Stavo preoccupando quando ho visto che era Joby che stava per tirare, quindi mi sono rilassato. Ma dai. Joby, buttala dentro. Uh, perché? Qualcuno me l'ha tolto. È fuori. Bisogna che ci mette d'accordo che ci deve spegnere giù. like Come si deve aver usato il proposito pasaro. Ma chi ha droppato roba. Vabbè eh ti brutto. Ah andò è proprio troppa roba. Do you even vape? si, si si, si si qualcuno mi ha chiamato branda 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 e la vanguolo say my name, say my name blu lo so quindi posso distruggerti ma si vieni da mamma, vieni capito come te lo ficco manca una cocorita jobiii e ho perso il controllo della macchia ho perso il controllo della macchina vai via show non vedo la no mi incrocio preso ancora lì mi 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 il p indipendente il mondo perché si è andato troppo avanti fatti allora meno riesce ad alzarti in volo più devi partire indietro maledizione mi state sputtano a destra e a sinistra ma non è che ti sbalestra a destra e a sinistra cioè se io sto andando qua non esce a pigliare la palla io è normale che poi la vado dritto usa il boost cammini sempre senza boost usalo ogni tanto e non voli provaci 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 non moco connessione di causa con una palla almeno no peccato buono bu butta a madre eh buttala sentiro maggia chi è che c'è cagato d'osso? ho sentito proprio lo sforzo, l'umore è tipico per lo sforzo volevo prendere le massi scusami un massi! dobbin ma porca madonna son con te si arrossi tutti noi scusa ho preso malissimo ma infatti non eri tu hai puntato da 50 km erano zombie dopo non ce l'avrà come in the center one ah massimo del center ah shot no no ma perchè la capriola ecco c'è stato no una bassa calazzi no peccato però parla porca te la stavo lasciando eh ma te l'avevo toccata con la donna io oh gol no no he's lowly ma verino assi puttana ma che cazzo what the fuck shot no shot oh i came da ma la va a fare un culo mi defensa comunque ha ragione massi ok ha detto i came te l'ho detto eh i came i came giz i came who eh a prendere la palla ero venuto ah hai capito ah ok eravamo almeno per quella che mi pensavo mamma mia che laggate che sta tirando sto cosa bella assi io sono entrato in cima alla palla mi ha dato un paio di laggate si è cominciato a driftare via guarda ma che ho anche mandare good good ah good capito che lo sta bagnando comunque qualcuno esci da questa diavolo di porta che ho preso spagnol non lo so ma stai mangiando Massimilio? io sto mangiando niente ma tutti stanno pigliando no è coso lì che sta mangiando è un saci che si sta mangiando che stai mangiando? questo questo zombie vai via vai via vai via un uomo di merda more points more points more points job dove vai a dormire dai vedi ma perché perché sto tormentando sono e facciamo tra quanto due minchia ma minchia meraviglia 168 rai lo riguardo ok sono io spagna no non non ma no 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 a voto a facco vero da me ero convinto per la presa deve avere la del giore corrotta si no no funziona lui nel campo ma il turbo mai senza turbo il turbo il turbo la tazza che ora o scusa david ma già ben già andato a dormire perché pure tono non utilizzi il busto 0 ho capito perché quelli che non utilizzano il busto vuol dire che si droga fa gol fa gol fa gol fa gol che cattivo spagno che gli ha rubato il gol ah scusami ravide dai tranquillo ciao ciao jobby good night jobby ciao jobby bye bye ciao jobby ciao jobby ciao jobby ma che fai ahahahah ahahah 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 mi sono incastato sembrava mio jobby piano davide piano 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 ero giù dentro nooo io non te l'ho voluto fregare eh ahahah pensavo di esso ma è amore che fai mi sono messo a guardarti un attimo giusto da giù dritta pensavo fosse dovevo sfruttare un po' ho sbagliato quando te la vedi grisa che stai accelerando di brutto che sei da solo e ti capita quella cosa li ti basta che mentre vai schiacci anche il pulsante del freno rallenti un attimo la palla ti passa avanti ti torni sotto la continua a spingere a dritta ok va proprio un attimo cioè proprio aglio si tieni spinto sia il gas che il freno insieme cioè mentre dai gas a un certo punto tieni spinto anche il freno normalmente sono handicappati nooo madonna cambiamo via fu grazie grazie l'ho spinto pure per dargli un po' di carico in più guarda preparata grazie davide para ma è butthole hurts così va bene aspetta ora arriva a sentire un po' più il tos è la madonna no no è l'ultimo che eravamo pronti a tirà davide oi salta prima che sei a fare per nasce no ti salti sempre quando la palla sta già scendendo salta prima e l'anticipi un attimo e salti prima tipo lì dove salta qua prima ma sei troppo che tardo vedi la palla tutte le volte vuoi arrivi lungo ecco c'è poi del delay are you eating shit? no no ma si stai dopo bravo vai sul muro vai sul muro tanto non la prendi e poi stringi in giù io dovevi continuare dagli assist e stringimi in giù facemi l'assist pinzandola in basso no uuuu no bravo qui ecco ad esempio anche qui ghiaccio hai fatto una cosa perfetta aspetta e fermi immobile quei due secondi tanto gli altri prima che arrivavano avevi il tempo la palla ti scendeva davanti facendo il porto di turbo facendo il pallone attivo e non facendo il gol però ho un assist sicuro ciao 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 stiamo fredda cantari rastpunk around the world a sbagliato salda bravo ancora prima ancora prima dovevi saltare tipo qua la colpivi di mentre scendeva capito devi anticiparla veramente di brutto sei arrivato al livello di saltare dopo il primo rimbalzo tu dovresti saltare per prendere prima del primo rimbalzo ma non vedo troppo sotto no e quando vai troppo sotto se fai troppo sotto usi due volte la B salti cioè salti col primo colpo di DB per saltare non tocchi un cazzo di spingi di subito la macchina va su due volte il salto e accelera molto più inserita verso l'alto è come il concetto dell'alto me l'ho girato per farlo di retromarch perché mi sei in difficoltà mi ha detto vada no no me l'ho girato perché mi ha detto sta carendo voglio provare ma state facendo private o ma di che gioco parliamo rocket ah si siamo in privata vuoi inirti si se è privata si perché io ce l'ho su pc si si viene pure da epa ce l'hai moddato siamo in live stiamo facendo streaming no l'ho comprato tipo 7 euro invece che 30 su switch no ok però su pc ma adesso si può fare anche tempo su pc puoi commontare gli add dobbiamo fare back to menu back to menu così il nome alla stanza non ci raggiungi ma ragazzi questo mondo mi vado a dormire pure io tanto a luna e no fattene un paio se no siamo di nuovo dispari perché se esco io siamo dispari no domani siamo quattro quelle che abbiamo giocato ma in totale 65 ok ok privata mi nato il codice quando si il nome e codice ma andy e com'è andata quella torneo ma ma mi senti no andy andrea se mi sente allora name of the server rocket col ck rocci k e e una cosa più semplice pronto password 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 lo scambio è stato completato lo scambio è stato completato ma che scambio è stato completato eh vedi ti ha rubato tutto tu non lo sai ma adesso non c'è più niente in inventory il codice qual'è il codice qual'è 1 2 3 4 1 2 3 4 sono negli arancio eoforo you got it morto un attimo sta pippando ma sto da solo io si ma il nome della partita eh bloc eh rocket ok vai eh sto attendendo che vengono qualcuno sennò ma si è solo arrivo arrivo ma devi fare odeoforo oppure voi arrivo arrivo sta motoretta l'ho fusa secondo me si è unito sono manca le panni arrivo oh gesù il fadano took a dab hit ops fucked me up fuck me up nigga haha wrong yeah 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 do y'all know um king of the hill king of the hill yeah shot strong god damn it god damn it bobby nooo 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 ahah, loser oh, ok, perché ha fatto un bomb? ahah ah, fuori con me si tu e lui mi sono reso contoro io facevo la panica che era con me ah, fuori no, sai è così alto non vuoi no 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 sono due no ah, shit ma no oh my god oh my god stavo entrando cosa volevi fare no io troppo polleggiati tranquillità va bene beh, poi secondo me ti devi incassare un po' no ah, hai chiesto del cattivo lo metto ah 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 oh oh i'm trippin' ah i see shit no 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 eh 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 mai gol oh puttamadre porco schifo ecco che puttamadre porco schifo uno due tre mamma mia no per cazzo lasciate ritirare mi è piaciuta la parte del lasciate ritirare che è stata capita nuova eh andrea mi sa che non l'ha sentito mi sa che non l'ha sentito però io uguale in defense in defense ma io sono stato avanti ma non c'è stato in difesa ho attaccato gg gg un gg da trottola gg rigi e che ha distrutto qualcosa eh l'america ha messo via la pentola eh l'america ha messo via la pentola perchè è stizzita sta facendo un disastro blu eh spero l'ha detto perchè sta poco bene adesso sti di rodore dimmi anche fumo e ho foro eccolo no forse che ci sono messo proprio in culo proprio mi sono messo proprio in culo proprio ci sono messo un gruppo un gruppo un gruppo che cazzo che cazzo spazio saluto in italiano è come bless you in inglese mmm saluto I know Spanish, it's the same thing. Salud also means cheers. Cheers, yeah. Ok. Ma Andrea c'è? Eh, sì, c'è tu. Sì, sì. Ah, ok. Massi, non sento più. Eh, sono fermi. Stavi laggando? Eh, ma c'è accusato il passivo de l'olandese. No. Oddio. Lag. Ok. Stavizzato. Eh, sono troppo forti. Fuck. Scusa Massi, ma ti vedevo che stavi entrando tu in porta. Eh sì, andava bene. Defa. Sì. Stai via. Bravo, amore. Bravo, amore. È un po' squilibrati, non so. Andrei tu che livello sei qua Lasciateli tirare Non toccate la palla Lasciateli tirare il porto In apertura Allora Aia Puro david Si sentita che devo fare scusami lascia riporta tutta la tirare non t'avevo sentito letto prima a pensare valeva per prima perché primo fatto uguale poiché importa fermo immobile che erano sembrano in posto della rinparla in là dietro a spagna prendere il tuo biglietto davide allora devi imparare amalgamato marcaro marco qua guarda durante l'alto qui tu devi saltare allora vedi lì era un po' di lato non c'è arrivato è stato prende il turbo che mi ha distratto oh che si! noooooooooo oh nooooo nooooo oh my god lambda Dov'è di fare un gol al fuori? Che è messo? Dov'è di gol Termine Ti hai scordato tu Non so perchè mi si era chiusa la vena sulla partenza L'hai vista? Non hai visto il giro che ho fatto? No, ho visto perchè io sono sceso al muro, ero sul muro Non so Non so Non so Ops Ops Io sono stato autore a guardare Fuck me Fuck me Ass Alla prossima fai due squadre equilibrate perchè se no Io che cazzo sento io ho fatto auto No, 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 falle in peso, falle tu, lasciate Ops Ops No, 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 mai E' vero Ops no bagaglio ok gg gg stop per me vado a dormire oh fuck allora io farai tipo dove vai davide stacchi pure tu e ha detto che va massimo ah allora stacchiamo non lo so dicendo voi beh chiudi la live intanto buonanotte ai liveari che ci stanno seguendo anche se vuoi ti giro adesso la cassa che mi mandi la richiesta salutate a pubblico ciao ragazzi ciao 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 youtube ciao 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 ciao